Domenica mattina si va al lavoro, che cosa è successo? Siamo stati aggrediti alle 5. Prima abbiamo sentito degli schiamassi, i ragazzi urlavano e poi hanno visto le luci accese e volevano entrare e hanno preso a calci trovando la porta forzata, non chiusa a chiave perché abbiamo sentito e ci siamo spinti a chiudere la porta, ma non avendo le chiavi lì abbiamo dovuto far forza. Davide diciamo che i suoi dolci vanno a ruba, al di là delle delle battute, però i ragazzi esagerano. Sì stavano sicuramente in condizioni non troppo sane.